hanno detto adesso una barzelletta per televisione ma magari se lo dico la sanno già e vale la pena che la dico chi la sanno già? quelli che la sentano chi è che la sento? siamo qua io e te siamo qua io e te chi la sente? due amanti erano in casa erano in casa due amanti è arrivato arrivato il marito e adesso arriva il mio marito arriva il mio marito cosa facciamo nasconditi sotto il letto no sotto dentro no dentro una scopuzione no vai dentro nell'armaggio dentro nell'armaggio arriva a casa il suo marito guarda che tutto l'albergo prende fuoco prende fuoco andiamo scappiamo scappiamo prende fuoco prendi tutto prendi i bambini prendi gli animali prendi un po di vestiti andiamo andiamo e loro scappavano e loro sentono una voce che dice non dimenticate l'armaggio portatevi anche che era dentro lui non dimenticate l'armaggio non dimenticate l'armaggio non dimenticate l'armaggio non dimenticate l'armaggio